mentre faceva molti cuochi sono morti ah io ti ricordo che quella torta l'abbiamo fatto con un cuoco fai dell'altro pane stai facendo dell'altro pane mi stai dicendo è un antras vi prego ragazzoli fatemi fare il primo gen e attaccatevi al gen ciao friscone buonasera caro come stai talmente buona che Bubi si è rifiutato di mangiarla sempre lamentare addirittura è scappato di casa attenzione è il bot supremo oggi oh guardate che bravi che stanno facendo i gen oh bravi bambini finalmente ma è un oso improvviso questo questo era un wake c'è da un po' ormai purfante incacchiato vabbè dai può resistire cosa fa Sable Sable fai il gen portanaccia miseriaccia Sable fai quel cazzo di gen adesso riesco a fare il save o o a a a a a a a a a beh è un bel game questo assolutamente si prospetta proprio un bel game ah ma non è male che gli sta piecappando porco due mostri animali è proprio animali alcune volte se n'è andata poi ci sta ci sarà una seconda chance il chi eh come ho detto io non so cosa dire ragazzi sono proprio degli animali questi erano in tre per fare un save quella sta aprendo una cassa ma che cazzo di dash indietro mi ha fatto porco due vogliamo continuare per molto non è un accetto da tirarmi signora tanto dovevo prendermelo prima o poi vorrei far sto jam perché tu sei il campione dei coglioni non sei il campione della luce sei il campione dei coglioni ciao ciao Julius buonasera come stai non ti permetto ma l'hai visto Jerry cosa ha fatto ah certo io ti cura e tu non mi curi oh è sta cosa ma vedi questa ho il chamadocina altro che game da youtube cosa non fare in gioco ma che che è sto bug raga ah ah flashata cogliana ma c'è pop si va buo poi holding w semplicemente cosa dovrei dropparlo mi sono un po' incastrato dai che scam ma come sta mirando raga ma cosa vuol dire ti ho fatto pure un 360 ma è davvero il champion dei pagliacci sto coso dai ragazzi sto puntando veramente disumanamente raga ma non ha senso raga sto gioco non ha senso raga sto gioco non ha senso come si fa a bugare cos'è che l'ha bugata la granata è perché ho droppato la granata avete visto cosa cazzo dovevo mirare per riuscire a flashare non devo mirare cioè non mirare a destra del mio schermo raga io non capisco giuro non capisco come hanno fatto a far uscire una patch con così tanti bug io non comprendo guarda non funziona così la flashlight guarda dove la mina la mina in cielo cazzo scusate la droppa la riprendo no niente basta è buggato vabbè non si usa la torcia che cazzo devo fare ho paura di droppare la granata flashback adesso che cazzo la lancia direttamente a sto punto porca puttana campione di clown pop fatevi pilla sta cazzo di torcia ma poi hanno il coraggio di farle l'aria ma guarda lasciamo stare qua è rimorto ho 7 per lui vado per dire mi si bugga e correva in giro in ginocchiato con la trappola sul piede non potevo saltare finestra è bello no no ma hai fatto bene sto gioco eh fatto da una compagna seria che sa quello che fa oh 4 gen li abbiamo fatti però intanto dai sta f***a raga sta torcia è veramente ricca guarda come la punta poi così datemi una torcia non rotta vi prego una che non è dell'Ikea c'è il medic che ti curi da sola affanculo nel frattempo Bethesda hold my beer ma allora il fatto è questo almeno Bethesda ti mette la patch day 1 io dico Bethesda fa una m***a ok fa pieno di bug ti usa come playtester ti mette l'early access così che tu fai la playtester però almeno ti fanno la patch day 1 di solito perché è sparito un ciondo raga perché sparisce quel ciondolo perché sparisce nel nulla il ciondolo del luncino è riapparso sparito apparso sparito apparso sparito apparso sparito apparso io io non voglio commentare guarda giuro sono sconvolto scandalizzato e non so cosa altro raggiungere senti ho il cia ce ne andiamo fuori dal cazzo tu vuoi davvero essere curato tu vuoi davvero andare a fare il 6 no ma assolutamente no ma per chi mi hai preso questo pensa che io vado a fare il save coglione proprio resto qua proprio per farmi vedere farmi accettare se vuole però più o meno lo sta facecamperando cioè forse no si lo sta letteralmente facecamperando dai letteralmente fai scamperando no no ma me ne vado fuori che cazzo l'Ikea si è affidabile però non sa non sa di montarla da solo capito l'ombuds quindi l'ha montata storta probabilmente infatti punta per terra mica per niente vediamo la flashbang se me la droppa almeno sui piedi perché ha guardato in alto prima di lanciarla ha fatto così e l'ha lanciata almeno l'ha droppata per terra ma perché cazzo ha guardato in aria ha fatto così e ha muovato per terra la boh e io c'ho non perdere viene così così non si acceca aaaaaah sì ma io dovrei cercare i miei amici io sono il leader amici dove siete amici dove state amici siete cesati ma dove siete a quale gen è un bubba è un billy è un bubba mi sa è un bubba che palle bubba qua sotto sei facendo un totem tu perché sei facendo un totem ti do leader fai il totem veloce dove vai qua vieni qua fai il gen sei l'influencer sono l'influencer giusto che io sbagli è colpa tua dopo degli altri mi raccomando ma sto cesando qualcuno scusi li avvicini un po' almeno prendo prove allora dove scappi pipone caga sotto è solo un grosso errore di comunicazione vai a fare il save allora chiaramente sta seguendo le mie direttive Nicola stiltato guarda che faccia la cazzo che c'hai mamma mia Nicola poverino not the beast not the beast anche Netflix hai mai visto Resident Evil la serie anche qualche grazie non lo faccio bellissimo dove sono a fare il gen non mi stanno seguendo non stanno seguendo ragazzi non sono un'influencer allora dobbiamo fare un live su tiktok mi raccomando bubba vieni qua bubba vieni con me vieni bubba guarda come mi segue sei un nuovo follower ah ah l'avete capito è un nuovo follower lui ma cosa fai ma cosa fai merda bambuzol non voglio troppare il god però ah enduring mi segua mi segua hai lasciato il like ai commenti di youtube no dove vai no 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 è una brutta persona mi ha lasciato mi ha tolto il follo non sto piando così che faccio più follo dove sono questi stronzi però c'è bubba eh un nuovo follower qualcuno ha quello per farmi vedere il junk che stanno lavorando ho una granata c'è richiesta la mia presenza senza di no sono tutti qua però signora oh finalmente con il mio prove facciamo questo generatore fai il genere fai il genere scusate dovevo dirti di farlo perché sennò non sono un vero un vero un vero scuso ma avete capito ah vabbè un insta ial brava vieni che forti oh questo game vedi con l'influencer mi sembra più facile spiegare agli altri cosa fare farsi seguire lasciarsi i commenti e io me ne vado a fare scappa meg meg scappa no meg muore nel basement non muore nel basement si è schiettato contro un oggetto vabbè è proprio scarso sto bubba poverino ma quello che fa droppare gli oggetti con la motosega o a un franklin o set si è schiettato di nuovo tra l'altro guarda non so voi ma ma sei proprio strozzo no vabbè scusatemi vediamo qua dell'evento speravo vabbè aspettavo il no da questo bubba non è stata un'idea forse geniale la mia però basta che non mi porto nel basement se non mi porto nel basement sono contento oh che bello mi slagga il no è lì sotto comunque minghia 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 mi stai seguendo sei un nuovo follower pure tu io me la striscio beh lontano dovrebbero lasciare morire lui e venire per me c'è da dire cazzo apri la cazza porco ma lo vedete che è in chase mi sta scherzando sto tipo raga no ma sta scherzando sta sta mag eh già mi lasci davvero slaggato tutto sto il game santo cielo cosa mi tocca subire vai curami vai scappiamo che non lasciamo più scratch ma corri corri come il vento mag scappa scappa più veloce del west mi indichi la porta signorina cosa salti faccio agilità no il mio lavoro di squadra troppo lontana apri questa cazza di porta grazie devi uscire devi uscire devi uscire tu no devi uscire tu è il mio compito il mio lavoro niente vado io voleva rubarsi una cassetta grigia eh beh però siamo riusciti a scappare anche se aveva il noed meno male guarda ma che è sta questa è tipo la mia build è peggio della mia raga con due scared no enduring franklin inganno e noed verso la mag devo oltre facciamo stare guarda andiamo col next prima che vanno qualcuno dal a 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 Grazie a tutti.